Babbo Leo News, cosa succede? 22 circa se si considera il percorso risalente al 1600, quindi parliamo della valle del Gerato, percorso che però allo stato attuale risulta percorribile e solo a tratti e allora si sta lavorando e si lavorerà per far tornare l'acquedotto agli antichi splendori, diciamo così. Sono anche in corso già lavori legati a questo progetto di riammodernamento, io chiedo a lei come si sta lavorando e soprattutto come si lavorerà e poi farebbe da capire come si vorrebbe lavorare anche in collaborazione con l'amministrazione comunale. Prego, tanto buongiorno a tutti i radio spettatori, innanzitutto è chiaro che l'acquedotto storico è veramente un valore aggiunto per la Valbisagno, come lo è di fatto il cimitero monumentale di Stavieno, quindi la Valbisagno non è soltanto servitù, ma offre anche delle funzioni di questo tipo, oltre anche ad esempio alla bacia di San Siro, che mi piace ricordare perché anche quello è veramente un movimento importante che abbiamo invallato. E sulla valorizzazione dell'acquedotto, noi come un municipio ormai da anni cerchiamo di trovare delle risorse per poterlo rendere completamente agibile, l'acquedotto è, passeggiare sull'acquedotto è veramente un'esperienza unica, che ti permette veramente di visitare anche tutti, di passare attraverso tutti quei paesini, secondo a destra, in zona collinare del Bisagno, che sono estremamente affascinanti e ti permette quindi di riscoprire veramente una parte di territorio che difficilmente magari molti conoscono, non hanno la possibilità di visitare, quindi è un'attrazione sicuramente per le persone che vivono la Valbisagno quotidianamente, perché permette anche loro di svolgere un'attività all'aria aperta, comunque ci sono molte persone che corrono sul condotto, ma allo stesso tempo va valorizzato quello che è il turismo anche all'esterno della vallata, un turismo cittadino e non solo, perché ultimamente l'acquedotto storico è visitato veramente da molti turisti che vengono anche da fuori. È un percorso, guardato dai primi, ma che è molto esteso, quindi c'è la possibilità di riscoprirlo anche nei suoi tratti medievali, perché l'apposito storico ricordiamo che i primi segni, diciamo, li abbiamo dall'epoca romana, poi abbiamo il tratto medievale che in parte nella zona dell'estasco stendieno è percorribile, è stato chiaramente rivisto in base alla necessità di ampliamento dell'edrico del 1400, dopodiché poi ha avuto un'evoluzione continua e ci sono da un punto di vista architettonico delle testimonianze importanti, che mi riferisco ad esempio ai due ponti sifoni, che sono veramente delle opere importantissime, per non parlare poi del ponti sifio Tolbilo e del ponti di Tavassola del 1600, quindi è veramente un percorso a scoprire nella sua intenzione. Stiamo parlando qui su Babbo Leo News in compagnia di Roberto Davoglio, presidente del municipio media Valbisagno dell'acquedotto storico di Genova, l'abbiamo sottolineato, un qualcosa di molto interessante, un percorso ampio per i genovesi e non solo. Abbiamo ricordato, ha ricordato lei, quello che è il valore anche di questo patrimonio genovese e non solo. A proposito, in questo momento dove vi state concentrando e poi qual è lo sviluppo futuro che vi augurate possa esserci per riammodernare e riportare agli antichi splendori tutto il percorso? Stendo a dire che l'acquedotto storico ha dato modo anche di creare aggregazioni, un'aggregazione importante tra varie associazioni su tutto il territorio della municipalità, che un po' lo tengono anche vivo, che contribuiscono a renderlo visitabile, insomma quindi vanno fatti con più le città. Sì, io toglierai un po', diciamo che sono veramente loro l'anima che permettono comunque di mantenere attivo, sviluppo, pulito e completamente in parte percorribile, perché ci sono dei tratti ovviamente che sono interrotti. Però devo dire che veramente la forza e le associazioni che lavorano costantemente sull'acquedotto ci permettono comunque di avere un tracciato, di avere un tracciato percorribile in varietà. Il municipio, l'amministrazione comunale sicuramente deve fare di più, nel senso che deve pianificare una serie di interventi e poi devono essere chiesi innanzitutto a sistemare le situazioni di pericolo che possono in qualche modo compromettere la percorribilità del tracciato. Mi riferisco ad esempio alla sostituzione di alcune lastre di Muserna, perché il condotto negli anni è stato coperto poi con queste lastre che di fatto ne consentono alle persone di camminarci su. Dopodiché ci sono degli interventi importanti, strutturali, come ad esempio il collegamento tra Pino e Trensasco e la realizzazione di un ponte, in quel caso lì, che è crollato recentemente e che non permette più al percorso di essere comunque continuativo. Quindi abbiamo sicuramente gli interventi importanti che vanno pianificati in questi anni, perché rendere completamente fruibile l'acquedotto sarebbe sicuramente un vantaggio importante che ci sarà dal design. Sugli ultimi interventi che citava, quindi anche più consistenti dal punto di vista monetario, servono fondi. In questo senso l'aiuto che arriva dal Comune e dall'amministrazione centrale, chiamiamo così per quanto riguarda Genova, dovrà essere fondamentale. Quanto serve più o meno per portare avanti questo tipo di opere? Siamo oltre, parliamo di 50 mila euro, ora indicativamente mi correga se sbaglio quanto necessario. In realtà se noi consideriamo tutto il restaio incompleto dell'acquedotto, quindi io mi risolisco anche a quei monumenti a cielo aperto che abbiamo, come il ponte del 1300, Sant'Antonino, piuttosto che altri pezzi di acquedotto che meritano veramente un recupero completo, la cifra sicuramente è molto, molto superiore rispetto a quella che ha detto prima. Ci sono però degli interventi che si riescono a fare con circa dai 50 ai 100 mila euro, mi riferisco ad esempio alla sostituzione delle lastre, nei punti più critici. Dopodiché ci sono gli interventi come i ponti di collegamento, io adesso ho fatto cenno a quello del Trensasco, ma nel tracciato diciamo secentesco della Valle del Gerato ci sarebbe anche da ripressionare il ponte sul Caci. Quindi andiamo bene oltre la vicina che ci stava per fare. Sicuramente noi stiamo spingendo al massimo come municipalità affinché il Comune sia in grado nei prossimi anni di investire le cifre necessarie per poter, ripeto, rendere questo percorso completamente percorribile. Questo è sicuramente un qualcosa su cui si sta lavorando. A proposito delle associazioni di volontariato, siete in contatto anche perché sono comunque settimane, mesi importanti, nonostante si appendano delle manovre di più ampio respiro. Nel respiro quali potranno essere, insomma, si continua con una sinergia perché lo si vuol valorizzare, nonostante manchino ancora passaggi importanti. Sì, noi abbiamo comunque un tavolo sempre aperto, con tutte le associazioni che lavorano, che si impegnano sulla prodotto, cerchiamo di esprimere gli strumenti per poter portare avanti il volontariato. C'è da dire che noi con il municipio quest'anno cercheremo di attivare anche un supporto con le nostre risorse per quanto riguarda il mantenimento del verde, che è sempre più difficile da effettuare e devo dire che mi piace ricordare anche uno degli ultimi progetti che è stato portato avanti proprio con le associazioni e in questo caso anche con il CEIS, dove c'è stato veramente un intervento importante, un progetto importante di integrazione che ci ha permesso comunque a una docina di riferimento di asilo di lavorare insieme all'associazione, quindi insieme al nostro testo associativo, per recuperare un bene importante per la vallata. Hanno effettuato un lavoro importantissimo, perché comunque hanno verniciato centinaia di metri di ringhiera, però poi il valore che questo progetto ha dato al territorio chiaramente è superiore rispetto a una semplice intervento di pittura su una ringhiera, perché è chiaro che ha un valore importante, soprattutto anche per le associazioni che lavorano sull'acquedotto. È stato veramente una bella esperienza. Significativo, insomma. Valeva la pena anche visitarlo in chiusura di questa nostra chiacchierata. Continueremo ad aggiornarci su questo fronte, perché l'acquedotto rappresenta un valore, l'abbiamo detto, una risorsa importante per Genova e non solo. Grazie al Presidente del Municipio Mediovalbisogno di Genova, Roberto Davoglio, per essere stato con noi. Grazie a voi. Matteo Rovere, Babboio News, cosa succede in di Puglia? Il mondo capotorto di azzi? Allora...